Nel concludere la seratona ho un bel tartufon bianco con crema da vaniglia, tutta la panna intorno che fa libidine, anche un po' di cioccolato sopra, ragazzi giustamente, oh molto bene, mi danno la notizia che abbiamo accorciato le distanze, Gagliardini, ebbè signori ha segnato Gagliardini, dopo questo l'anno prossimo possiamo fare anche il triplete, il quattroplete, il cinque punti, cioè Gagliardini che segna è un miracolo, un miracolo, ha segnato Gagliardini è un miracolo, quindi adesso mi mangio un tartufon, ma il Gagliardini che segna è qualcosa di eccezionale veramente, una cosa tipo cometa di alley, una roba che non si può neanche capire, che non si può neanche spiegare, Gagliardini che mi segna, ciao ragazzoni!